Adamo, il primo uomo, è già una figura di signore, è il primo signore della storia. Ma, come dicevamo, c'è qualcuno che non ci sta, c'è qualcuno che non è affatto disposto ad accettare passivamente la situazione. Chi la tira, la strappa. Fatto Adamo padron dell'animale, incominciò addirittura a salariaccia. Non salutava, non guardava in faccia, come fossino là tutti i stivali. Non c'era altro per lui che canta caccia, cavallo da sella, scampagnate, ciali, precisione con l'archi trionfali, musiche, cianerie per la mogliaccia. E l'animale ha tutte ste molestie della necessità, come noi dimmo, facevene o per tu, povere bestie. Non c'è fu che il serpente, che vedute tante tirannerie, disse per primo, ma vi buccerò io, crete fottote. Grazie.